Sicuramente sappiamo che Lucca è una squadra forte e che vive di energia come noi, quindi sicuramente sarà una partita ad alto ritmo, dobbiamo essere brave a gestirlo e non farci prendere troppo dalla foga. Come ho detto è una squadra forte, vengono da una sconfitta a Sassare, quindi sicuramente avranno voglia di rivalse, voglia di prendersi due punti, ma abbiamo voglia anche noi di ripeterci dopo la partita di Domenica perché non ci accontentiamo di certo di una vittoria, quindi insomma che vinca la migliore. Domenica era fondamentale vincere, siamo state brave a portare a casa i due punti e venivamo comunque da due partite difficili contro Schio e Bologna e noi dobbiamo sempre pensare a noi stesse, a crescere e penso che Domenica si sia visto, era importante vincere anche perché era la prima in casa, diciamo con il nostro pubblico e che voglio ringraziare comunque per il sostegno che ci ha dato e insomma ora, come ho detto prima, non ci accontentiamo e è solo l'inizio. Sì, sono rientrata in campo dopo tanto tempo e diciamo che all'inizio non è facile soprattutto ritrovare la fiducia e la spontaneità nei gesti, però sono molto contenta di come mi sento, diciamo che il duro lavoro che ho fatto in tutti questi mesi sta portando i suoi frutti e quindi ora mi devo solo sciogliere ancora un po' di più, però ho la fortuna comunque di lavorare con Lollo e con la squadra che ha fiducia in me e nei miei mezzi, quindi insomma verrà tutto naturale. Sì, torno da ex nel campo di Lucca e ammetto che magari mi fa sempre un po' strano ritornare in un campo dove ho giocato, l'anno scorso ero già fuori e niente, mi farà strano soprattutto giocare contro Maria Miccoli, una delle mie migliori amiche, però insomma è anche questo, di sicuro non le sconterò niente e sono contenta comunque di ritornare a Lucca, è comunque un bel ricordo, quindi insomma non vedo l'ora. Grazie a tutti.